Adesso ci vuole un... E' tre a voi e il mio uomo vai Raga, due casse consecutivo aperto, due brawler Raga, non sto scherzando Ho trovato ambra, ho trovato ambra Ho trovato ambra Bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale Oggi ragazzi ho di mia reazione il vostro clip e partiamo subito da lui Più o meno il mio è questo Che comunque era furioso ma poi decide di andare a fare subito gol E la pamma purtroppo rimane lì in mezzo Non può far nulla ragazzi, otti miei Prossimo clip, abbiamo quattro cassette dal pass Posso dire anche... Ok Byron c'è l'audio che non è rotto di più, ma che è? Ma che sto fastidio ancora? Trovo anche Frank subito dopo Ragazzi ma dove ci troviamo qua? Ma che è? Ancora un altro schifo luminoso Un core brawler? Ah poi... Ma come posso? Prossimo clip, abbiamo questa Jessie, non capisco bene il nome Anche... Abbiamo Sainest Giocata devo dire veramente strana Però con teotistica allo stesso tempo perché Ha fatto un doppio rimbalzo molto ambiguo ecco Prossimo clip, siamo con Crostatina Attenzione situazione terribile Qua si trova in mezzo, riesce a buttare giù il Frank Attenzione che c'è anche il Colt Che di fatto sembrerebbe... Vabbè niente, che non sto a dire è un animale ragazzi Ma non ho capito qua sul Frank Ah perché ha buttato prima la palla Ah ok, ora ho capito Ok Vediamo la mega cassa È una mega cassa? Sei schifo! Non sei, vediamo Vabbè dobbiamo per forza vedere gli schifo Ok abbiamo visto che c'è quello luminoso Prossimo clip Siamo credo con V Chi è? Abbiamo Broly che è rimasto da solo Quindi era di Broly? Rimane solo soletto Fa fuori il primo Occhio che arrivano Eh qua potrebbe arrivare il doppio panino Un po' scomodo Ma attenzione In realtà Broly se la cava così Tranquillo Spensierato Torretta che direi che è stata La vita L'ha letteralmente salvato Mancano solamente dieci secondi Vediamo se riesce a clacciarla Almeno a fare i danni per vincere Ma credo che riesca anche a vincerla GG Ma attenzione Perché sempre nella stessa partita Rimane da solo contro due Da pure one shot Però lui tranquillo Spensierato va fuori il primo E credo che faccia fuori anche la Viper GG di nuovo Prossimo clip Abbiamo credo una parata Vabbè da Franci Tranquillo Spawna Va Cillato In avanti Usa anche la ulti per portarsi la palla in avanti E perché no Va anche a fare i gol Per il prossimo clip Abbiamo Itzfede Con Stu Potrebbe andare verso la palla Infatti ci va Preparare anche la ulti Che in realtà ha usato Ah 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 Devo ammettere che non me l'aspettavo Sta mossa e tira C'è doppio rimbalzo Così molto Molto fresco Prossimo clip Abbiamo un jaguaro Ma attenzione Sì oh Ed E' un epico lo so Bro Sono d'accordo Prossima clip abbiamo The Legend Attenzione 27 contro Zero in realtà Come fa a vincere scusa ah ho capito lo fa andare fuori Ez proprio Ez clap e via Beh niente come buttare Ah no però hai ritornato aspetta ah ma hai ritornato però comunque Direi che la situazione qua mi sembra Molto stabile non riesce in nessun modo A quanto pare ad avvicinarsi tant'è vero che viene Appunto clappato Ez Immagino anche la Tara se perde dalla Tara è uno Incredibile Uh la la meno male GG per Legend Alla fine abbassa il volume Alziamo il volume Secondo account E io spero tanto di trovare Amber Ma è inglese Spero tanto di trovare Amber Ma il telefono ridotto così Come ci sarà finito vabbè questa sarà un'altra storia Comunque sia appunto scritta saltellini Classico che non serve a niente Ma non è che si trova un leggendario Lo spacca definitivamente Oh Ma? Ma che cavolo Vabbè che comunque Ultima cassa Oh Ma dov'è che devo abbassare? Allora non è finito allora Prossima clip Siamo con Credo Fox Con Amzat E una forse non è sua Forse è di Next Eh è lui E che comunque Fa questo limbalzino C'è una cosa che non mi è chiara Qua precisamente Vedi Ha attraversato tutti E È a posto così Prossima clip Abbiamo Darky 700 coppie Che ha Un po' di cassette Devo dire E quindi cassettire enorme Iniziamo così Abbiamo già i saltellini E la scritta Aprimi Ovviamente skip luminoso Perché deve andare così E alla prima cassa Abbiamo Beh rosa Ancora si è in bassi Abbiamo la primissima mega cassa Con 5 Skipettino Luminoso A tradimento Però ancora un raro Cassa Brawl Sì Abbiamo Carl Perché Mega cassa La soglia numero 30 Abbiamo un set Ecco Noi bro Abbiamo trovato due rari Un super raro Adesso ci vuole Un Petro Tre skipettini luminosi Nella cassa da set Abbiamo il primo Che sì Ok Avremo sicuramente Un altro raro Ecco qua Abbiamo Pocho E poi abbiamo Abbiamo Frank Vabbè dai già Frank Iniziamo a ragionare Ma Vogliamo qualcosa di più Mega cassa numero 45 Ancora Un 7 Quindi doppio skipettino Abbiamo Vabbè stecca Un altro super raro Vero Dai Abbiamo il barrel Per carità Non è male Manca l'ultima mega cassa Io voglio un altro 7 Per chiudere in bellezza Vabbè È un 6 È un 6 È il colmo Sì sono d'accordo È il colmo Abbiamo Vabbè Edgar Edgar che tutti hanno avuto Gratis Lui l'ha trovato No comunque ha trovato Tantissimi brawler Ha aperto tipo 30 casse E ha trovato 9 brawler Non è andata male Prossima clip Abbiamo Papyrus 2 Piper contro Beryl Sta anche registrando live La differenza di power up C'è perché abbiamo un 3 E un 14 Però per il momento Mi sembra che se la stia gestendo bene Tranquillo Spensierato Potrebbe ancora insistere Infatti lo fa Il Beryl perché non riesce a prendere Bro puoi recuperare vita Ti giuro caro Beryl Che puoi farlo Niente Non vuole recuperarlo A quanto pare Potrebbe fa Vabbè sì però Cioè con tutto il bene di questo mondo Ma Ma che Prossima clip Abbiamo Super Fox Vai così una cassa enorme Con Schipettino E poi abbiamo la bellezza del corvo Perché sì di fatto Così deve andare Quando c'è una cassa sola Turecchi Perché nel dubbio Potrebbe succedere questo E infatti è successo Prossima clip Abbiamo Timothy Che si trova in mezzo a due Però lui fa il rimbalzo Prossima clip Sì ma la soglia 30 Potrebbe trovare Bell Please Please Bell Aspettiamo il secondo rimbalzo Si trova Bell È bellissimo Uh C'è un Ah oddio mi sembrava Abbiamo dei battiti Chiaramente messi In fase di ending Vediamo un po' Perché comunque abbiamo Abbiamo Bea E poi Bell Questa reazione L'ho già sentita però Prossima clip Abbiamo Pepper Con Dynamite Allora Prende la palla Potrebbe fare rimbalzi Super hyper meganomali Lagga tutto Attenzione Che sta per Beh che comunque Beh che comunque Per il prossimo clip Abbiamo un altro box opening Ah così Un corvo Così Non si sa dove Quando come Perché Ma l'ha trovato In una credo Mega cassa Prossima clip Abbiamo qua bisogno Di Degli occhiali Che ho già Ma anche con la lente Di ingrandimento Ad ogni modo Vedo una mega cassa Aspetta la sal Allora aspetta Saltellini Scritta Aprimi Ho fatto fare tre saltellini E abbiamo sette skip Chissà com'è possibile Ad ogni modo Doppio skip luminoso Abbiamo una star power E poi Anche La bellezza Del corvo Che Tutti sti Effetti Flash Spostati Però Giusto Cioè raga La prima cassa Che trovo L'apre Trovo mortis Ditemi se è normale Vabbè trovato mortis Apriamo sta cassetta Non troverò No Stecca Che comunque No raga No Non è possibile Non è possibile No 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 Raga Raga Non è per niente Programmato Raga Credetemi Raga Stecca In un ambiente Molto musicale Con Attenzione Skip e tier Ma sono in macchina Mi sa Ambra Ambra Non ho trovato Ambra Non ci sto credendo Ho trovato Ambra Non ci credo Ho trovato Ambra Adesso Non ci sto credendo Ho trovato Ho trovato Ambra Ho trovato Ambra Raga Raga Io direi Per questo episodio Possa essere tutto Spero che vi sia piaciuto Se così fosse per quando un bel like Iscrizione e campanellina Tattica, tattica Noi come sempre ci vediamo alla prossima con un nuovo video Bellissima